Botta e risposta tra il sottosegretario e la presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis e il deputato e coordinatore abruzzese della Lega Luigi Deramo sulle tempistiche degli interventi contro l'insabbiamento e i lavori di completamento previsti per il molo nord del porto di Giulianova. La polemica interna al centro-destra su questi argomenti è emersa durante l'incontro di sabato con la marineria. Il parlamentare aquilano ha sollecitato un'accelerazione da parte di D'Annuntis che a distanza di poco ha subito replicato. Ia regione sono disponibili 3,8 milioni di euro per detti lavori, risorse che sono state reperite come l'onorevole Benzà grazie al lavoro del sottoscritto e del presidente Marco Marsilio, risorse stanziate non solo per il molo nord ma anche per il molo sud. Non c'è quindi alcun blocco dei fondi e ritardi lamentati dei lavori del molo nord sono dovuti al fatto che il provveditorato alle opere pubbliche dipende direttamente dal ministero e quindi dal governo nazionale non ha ancora collaudato le opere realizzate. Senza questo collaudo più volte da noi sollecitato non può partire il completamento dell'opera. Sulla vicenda è anche intervenuto il sindaco del comune costiero Ivan Costantini che ha rimarcato la posizione del coordinatore abruzzese della Lega. Comprendete bene che nulla hanno a che fare i problemi del provveditorato con la gara che dal 15 marzo 2021 non è stata ancora bandita, questo lo ha certificato nelle sue dichiarazioni da Nuntis, quindi anche lì potrei dirne tante perché comprendete bene che la stazione appaltante prima veniva identificata nel comune di Giulianova per snellire tutte le procedure regionali. Poi con una delibera del 15 marzo 2021, guarda caso proprio un mese dopo il mio ingresso nel partito della Lega, questa delibera certificava che era la regione Abruzzo a dover svolgere tutte le procedure di gara. È passato un anno ma queste procedure non sono state svolte, abbiamo perso un anno praticamente. Questo cosa comporta per i cittadini giuliesi ma per tutta la provincia di Teramo? Il porto è il porto della provincia di Teramo, non è il porto di Giulianova. Comporta che i ritardi hanno portato all'insabbiamento del Molo Nord, comporta che i ritardi hanno portato a far sì che tante barche che fanno di porto turistico, forse il sottosegretario non conosce questo aspetto, non possono entrare all'interno del porto di Giulianova perché il fondale in questo momento si è ridotto di tanto.